La battuta di Aloisa, attenzione, svetta, Kovacic e Boris! Kovacic! A quanto è pareggio, Toruk Matu, 1-1, svettando come al suo solito, alto nei cieli, arpionando la sfera di gioco e depositandola alle spalle dell'incolpevole Edoardo Odone. Olimpia Carcarese 1, Masone 1, gol presentato dal ristorante Pizzeria La Sirena di Via delle Vetrerie 22 a Carcare, che ci porta a questo straordinario replay con la rete di Boris Kovacic e il gol dell'1-1, grandissimo Boris!